11 giovani napoletani provenienti da realtà diverse ma accomunati dalla passione per la musica sono i protagonisti del progetto Santi di periferia l'impossibile non esiste ideato dal rocker Piero Pelù, un'iniziativa fortemente voluta dal sindaco De Magistris ed organizzata dal comune con il centro di giustizia minorile che coinvolge i ragazzi da oggi e fino a venerdì 11 in diverse attività laboratoriali che si terranno nello spazio comunale Piazza Forcella e presso la sala di incisione James Session di Agnano. Napoli è per tante ragioni non solo per questo ma è un grande esempio di città moderna con delle radici antiche meravigliosa con tante contraddizioni dentro fra queste contraddizioni sicuramente la presenza di una una forte presenza di disagio. Un progetto nato da una chiacchierata tra me e Piero Pelù nell'estate del 2016 a Badolato in Calabria abbiamo parlato di tante cose e la sensibilità e l'umanità e la profondità di Piero lo ha portato a Napoli, città di grande umanità e di grande cuore per stare attraverso la musica vicino alle persone più in difficoltà. Un progetto che dura per l'intera settimana, Piero sta tutta la settimana in città insieme a tanti altri attori e protagonisti di questo progetto e si concluderà credo con un prodotto finale, probabilmente una canzone scritta insieme ai ragazzi. Il progetto presentato in sala giunta vede impegnato da oltre un anno un gruppo di lavoro coordinato dal comune a cui partecipano i direttori del centro di giustizia minorile e del coro della città di Napoli insieme al fondatore del Marano Ragazzi Spot Festival che con Piero Pelù hanno messo a punto il percorso didattico formativo. Le prime cinque ore di stamattina sono servite un po' per incominciare a annusarsi, conto che nei giorni prossimi si riesca a stabilire un contatto un po' più concreto con loro in modo da riuscire a scrivere concretamente qualche cosa. I ragazzi del progetto, di cui sei provenienti dall'area penale e cinque dall'Istituto Tecnico Galiani, sono guidati nei laboratori dagli artisti napoletani Claudia Migre, Daniele Sansone e Nando Misuraca e tra le attività sono previste visite all'orchestra dei quartieri spagnoli e presso la chiesa di San Potito dove si esibisce il coro della città di Napoli. Venerdì ci sarà un evento pubblico di restituzione di questa iniziativa, non lo possiamo sapere, è un vero e proprio cantero, un laboratorio aperto. Le attività sono già iniziate questa mattina, lunedì e saranno cinque giorni serratissimi, fatti di incontri nel pomeriggio, di valorizzazione di tante realtà musicali della città di Napoli e poi di laboratori a porti chiuse la mattina in degli spazi della città. Probabilmente venerdì vivremo tutti quanti una sorpresa ma certamente ci sarà stato un grande protagonismo di questi ragazzi e siamo certi che attraverso questo progetto saranno in grado di dare a loro vita un'impronta giusta all'insegna della grande emozione della musica e soprattutto della bellezza e del rispetto della vita.